Sì, allora oggi con la terza edizione del progetto Cuore Nostro vengono donati alle città di Caltanissetta sei nuovi defibrillatori che si aggiungono ai nuovi che abbiamo donato precedentemente con le prime edizioni in più verrà fatta la nuova mappatura di tutti i defibrillatori attraverso i pannelli che verranno installati e attraverso l'app Cuore Nostro e poi a febbraio verrà fatto il corso BLSD noi ringraziamo le aziende grazie alle quali è stato possibile realizzare il progetto Allora, come saranno distribuiti? Ok, allora, i defibrillatori verranno installati tre nella zona industriale e gli altri tre in città, uno in via Luisa Moncada, uno in via Le Trieste e l'altro in via Pietro Leoni Un corso BLSD per 30 persone, per tutte le aziende che hanno partecipato al progetto entro i primi di febbraio, quindi faremo il corso BLSD qui a Caltanissetta